Bene, come al solito dai laboratori di Sound Machine, da Valentino un buongiorno, siamo a presentarvi su BMW Serie 3 E90, la nuova piattaforma software del prodotto Custom Fit che offriamo ai nostri clienti. Qui vediamo il prodotto nella funzione di navigazione con la schermata Picture in Picture che permetterà di tenere sotto controllo, di monitorare la funzione di intrattenimento selezionata che in questo caso è il CD ma possiamo cambiare come vedete nella funzione AUX, nella funzione radio o nella funzione DVD la dove fosse inserito o USB o SD card, insomma questa legge un pochettino tutti i formati. Uscendo dalla funzione di navigazione entriamo nella schermata relativa all'utilizzo delle periferiche audio, in questo caso questa è la schermata del CD, potremo scegliere direttamente i nostri brani, la dove il CD fosse titolato ovviamente uscirebbero anche i titoli, non è questo il caso, possiamo andare a selezionare le nostre sorgenti radio passando alla funzione appunto radio in questo caso, ricercando le stazioni da questa bellissima schermata, nuova schermata del Dynavin, selezioniamo e richiamiamo le memorie dai nostri tasti subito sotto o cerchiamo altre sorgenti, il disco, il telefono, il bluetooth, l'iPod, l'ingresso ausiliario, abbiamo anche questa cosa carina dell'OBC quindi avremo la possibilità di monitorare i dati rilevati dal nostro apparecchio tramite la presa diagnostica, tramite la linea canvas, l'attacco USB, la retrocamera, il TV, l'ingresso ausiliario e ritorniamo alla funzione radio oppure alla funzione telefono, una volta settato il telefono ci sarà la possibilità di ricercare anche i contatti nella rubrica telefonica, nel momento in cui vado a connettere un telefono, adesso ovviamente è disconnesso, ci permetterà di gestire anche questo aspetto, quindi richiamo della rubrica telefonica con una tastiera alfanumerica. Andiamo sulla funzione radio, inseriamo la funzione navigazione, qui avremo un dispositivo di navigazione SIGIC, il protocollo di navigazione utilizzato è un SIGIC, estremamente semplice e intuitivo da utilizzare, ricerca per indirizzo, si aprirà la schermata che ci chiederà quale nazione andare a visitare, eccetera, le varie altre indicazioni che normalmente tutti i navigatori chiedono. Questo è il nuovo prodotto con la piattaforma D99 che vi suggeriamo per la vostra BMW. Grazie a tutti e alla prossima da Valentino.